ciao a tutti in questo video parleremo di una festa tradizionale russa molto antica tanti 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 mi fanno sempre questa domanda e tanti mi avevano già chiesto di parlare l'anno scorso di questa festa e finalmente ho deciso di realizzarlo russi fanno il bagno nell'acqua ghiacciate dei fiumi e laghi e tutto quello che li circonda perché quale la festa che scopo a questa festa e si svolge principalmente in questo periodo dell'anno dal 18 infatti sto registrando il 18 gennaio la festa crescenia si chiama si svolge dal 18 al 19 gennaio la notte diciamo a mezzanotte tra il 18 e 19 gennaio in russia e nei paesi dell'ex area sovietica diciamo è principalmente un'usanza una tradizione cristiana ortodossa è comunque un'usanza religiosa ha un valore religioso un significato religioso prima di partire con il video vi volevo raccontare dove ho preso queste bellissime collane che vedete addosso le ho ordinate su happiness boutique è un sito online di braccialetti collane anelli tutte le cose diciamo gioielli tutto quello che potete immaginare sono molto belli sono femminili sono fatti molto bene mi hanno mandato questo pacco e ho deciso di fare collaborazione con loro per avere questo codice sconto per i miei iscritti vi lascio sotto il link del sito il codice sconto e vi lascio anche il link a questi collane che ho acquistato io che mi sono piaciuti particolarmente quando ho visto questo qui mappa mondo mi sono innamorata ci sono tante variazioni c'è argento oro bianco oro rosa c'è sull'oro normale oro giallo io ho scelto questo tipo qui e poi ho scelto questo choker come vedete questo qui da applicare direttamente sul collo e li ho messi tutti e due mi piacciono come stanno nell'insieme è veramente bellissimo bellissimi bellissimi collane andate a vedere il sito happiness boutique hanno anche una pagina instagram molto bella se volete acquistare le collane andate sotto questo video il link codice sconto e il sito di happiness boutique allora dal 18 e 19 gennaio arriva l'epifania anche in russia diciamo che epifania italiana viene il 6 gennaio visto che natale ortodosso si sposta e viene festeggiato il 7 gennaio o comunque la notte dal 6 al 7 epifania russa viene altrettanto tardi non abbiamo nessun tipo di bifana non c'è una bifana che porta i regali non c'è questa tradizione proprio non esiste come figura come punto di riferimento questa bifana eccetera eccetera ma abbiamo epifania comunque e abbiamo questa festa che viene svolta altrettanto in modo particolare crescenia si chiama in russo crescenia crescenia e battesimo si traduce come battesimo crescensky cupania si traducono come i bagni di battesimo quindi è il battesimo di gesù quindi è una festa cristiana ortodossa è una festa religiosa anche perché si segue il calendario giuliano quindi tutto un po si sposta russi ortodossi fanno il bagno nell'acqua gelida per festeggiare il battesimo di gesù e stranamente non so se stranamente o no ma proprio il periodo di 18 e 19 viene chiamato come crescensky marose crescensky marose si traduce come il gelo di crescenia cioè 18 e 19 o comunque lì vicino in quelle date lì è molto freddo veramente sono dei mesi più freddi perché gennaio comunque un mese molto freddo in russia e cascano spesso la festa casca spesso molto spesso nel momento quando sono giorni proprio più freddi dell'anno per esempio l'anno scorso ogni anno c'è il numero più crescente sempre di quelli che fanno il bagno poi guardiamo per precisamente cosa perché com'è lo fanno i russi è una festa antica ma comunque diciamo la chiesa non obbliga tutti a fare il bagno chi vuole lo può fare chi non vuole non c'è bisogno che lo faccia lo fanno bambini lo fanno donne lo fanno loro lo fanno tutti non si può fare come nudi come in costume ma anche i vestiti o comunque con vestiti lunghi o ugualmente una maglietta si può fare in tutte le maniere serve a purificarsi e a benedirsi in un certo senso come si svolge la festa e come viene diciamo sviluppata prima di tutto viene creato un buco nell'acqua visto che in russia quasi da per tutto i fiumi si ghiacciano durante l'inverno quindi viene creato un buco nell'acqua a forma di croce di solito è forma di croce ma potrebbe essere quadrato potrebbe essere rotondo di solito deve essere fatto a forma di croce viene un prete che viene a battizzare l'acqua tutti i preti diciamo della russia vengono a battizzare questo posto mettono una scala dentro e diciamo liberano un pochino lo spazio per far sì che le persone possono arrivare lì spogliarsi cambiarsi andare e notare diciamo tuffarsi nell'acqua il rito vuole che viene svolto diciamo l'immersione tre volte con la testa quindi bisogna uno due tre tuffarsi con la testa e poi basta si può già subito uscire a andare via c'è chi sta lì a notare c'è chi fa un tuffo non ne può più magari esce subito c'è chi è abituato lo fa in continuazione fai bagni ghiacci eccetera eccetera magari un pochino più abituato c'è chi non è abituato per nulla semplicemente vuole sentire lo spirito della festa non è detto che sono tutte persone che hanno fatto qualcuno lo fa solo durante la festa magari per alcuni anni alcuni miei amici lo fanno sempre il giorno preciso dell'anno alcuni non lo vogliono fare per esempio spesso gli anziani insomma non lo fanno molto volentieri diciamo che il buco veniva chiamato giordano veniva chiamato e si pensava che l'acqua del giordano avesse poteri curativi rispingesse i mali malocchi eccetera eccetera spiriti maligni ma nello stesso tempo ti purifica da tutto quello che hai fatto dai peccati e sei una persona nuova le parole battesimo e battizzare derivano dal greco dove la radice corrispondente indica immergersi nell'acqua il battesimo simboleggia il seppellimento dell'uomo vecchio nella morte di cristo per rinascita dell'uomo nuovo in cristo in poche parole le persone si purificano dai peccati il prete battezza il fiume fa un rituale proprio un vero e proprio rito con l'acqua santa con tutte le preghiere con tutte le cose particolari eccetera eccetera e da quel momento lì l'acqua viene considerata purificata addirittura qualcuno la prende nella bottiglia riempie magari le bottiglie con quell'acqua e poi la beve o porta in casa e spruzza un po' dappertutto in casa viene considerata un'acqua curativa purificata e santificata diciamo questo è anche il rito se voi non volete fare il bagno qualcuno semplicemente si lava le mani potete lavarvi il viso o comunque viene di buon auspicio diciamo di anche potete prendere una bottiglia e riempirla nell'acqua benedetta l'acqua santa diciamo una specie di acqua santa e portarla a casa per esempio dicono che comunque non è una cosa pericolosa attenzione qui anche qui bisogna stare attenti dovete essere in perfetto ovviamente salute in forma fisica non dovete soffrire depressione non dovete essere già malati magari con non dovete prendere insomma farmaci per dire non dovete già essere ammalati dovete essere comunque sani il corpo reagisce abbastanza bene perché è un arco temporaneo molto breve quindi diciamo dicono che anche dopo l'immersione ci si ammala molto meno certo bisogna avere un tipo di meglio consigliabile avere un tipo di preparazione però ci sono appunto alcune persone che lo fanno anche senza preparazione si tuffano anche per la festa eccetera eccetera le regole anche ci sono allora la prima cosa se voi andate in Russia perché so che tanti italiani magari piace partecipare a questa cosa non lo so fatemi sapere voi se volete partecipare a questa festa chi di voi è adesso in Russia o vuole andare a fare questa festa e partecipare ci sono delle regole intanto bisogna andare sempre solo nei posti adibiti sempre le posti ufficiali dove ci sono tutti spesso ci sono anche le ambulanze spesso c'è un'ambulanza magari a volte non c'è nemmeno quella ma comunque c'è un minimo di protezione ci sono alcuni uomini speciali che sono lì che stanno salvaguardare che nessuno non diciamo non gli viene un colpo o comunque se c'è da salvare loro riescono a salvare diciamo c'è un gruppo di salvataggio lì quindi devono essere posti adibiti con la scala con un posto comunque pulito dalla neve perché se no si scivola anche sul ghiaccio bisogna stare molto attenti subito dopo bisogna subito asciugarsi e rivestirsi con qualcosa di caldo col plaid con vestiti comunque caldi asciutti e bere qualcosa di caldo assolutamente non si può bere alcol né prima né dopo assolutamente no sconsigliato e vietato non farlo mai da sole da sole così a caso mai farlo da sole vietato anche fumare o venire a stomaco vuoto o a stomaco troppo pieno diciamo ci sono tutte queste regole qui piccole regole diciamo e con gli anni con la statistica dice che in Russia sempre di più sempre di più sempre di più persone partecipano a queste feste e fanno il bagno allora dice che nel 2018 15 20 per cento di persone partecipano da tutta la popolazione russa 20 per cento di persone partecipano 24 di cui 24 per cento sono uomini diciamo ma diciamo che 9 sono solo 9 10 per cento quindi sono pochi alcuni portano anche i bambini e fanno fare questa cosa fredda anche ai bambini e quelli che hanno dai 60 in poi hanno meno interesse però ci sono alcuni gruppi che si chiamano margis che sono come margis ora troverò la traduzione mi viene il nome ora in italiano che lo fanno sempre e lo fanno per le difese immunitarie e dicono che questa cosa il freddo caldo o comunque le sbagliate diciamo di temperature alzano parecchio le difese immunitarie quando c'era l'URSS e le feste religiose erano vietate diciamo meno persone lo facevano dal momento che è caduto l'URSS e le feste religiose sono diventate diciamo più popolari o comunque la religione è rientrata di nuovo diciamo nella vita pubblica anche quindi questa festa viene molto seguita quindi trovo che 20 per cento della posizione fanno immersione nell'acqua fredda credo sia abbastanza perché il 20 per cento sono comunque tanti non è che ce n'è solo un 2 per cento che lo fanno il 20 per cento sono anche abbastanza e dice ogni anno cresce sempre il numero consideriamo una considerazione ultima che potete farlo al sud della Russia dove per esempio l'anno scorso a Sochi erano 0, meno 4 gradi diciamo come in Italia o in Crimea in questi posti qui come la potete fare a Mosca dove può arrivare temperatura a meno 20 ma ci sono persone che lo fanno anche a Yakutsk a Yakutsk può arrivare a meno 40, meno 50 quindi qui diciamo e dicono che il bagno comunque lo fanno un po' dappertutto quindi consideriamo anche questi fattori qui anche il presidente della Russia ha fatto l'immersione l'anno scorso infatti c'era anche il video e diciamo che la chiesa non ti obbliga a farlo però se tu vuoi farlo lo puoi fare fa parte diciamo della tradizione Krischenia è una bella festa particolare trovo che diciamo magari nel mondo non lo so non ho mai sentito parlare delle feste simili fatemi sapere voi se volete partecipare a una specie di festa in questo modo o no grazie per tutti i vostri idee per tutti i vostri suggerimenti iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità e sulle feste particolari in Russia mettete like o dislike sotto a questo video andate a vedere il sito Happiness Boutique per guardare tutti i gioielli che hanno se avete domande, richieste o idee scrivetele nei commenti sul mio profilo Instagram o sulla mia pagina Facebook che si chiamano uguale matroska3010 vi auguro buona giornata спасибо e до свидания